E' venerdì 7 giugno e sono le 7, buongiorno, benvenuti ad Omnibus News. Allora, è durato circa un'ora ieri il vertice dopo un lungo periodo di cattivi rapporti politici fra Salvini e Di Maio ed è stata una tregua che appare particolarmente forte visto che entrambi i leader hanno preso l'impegno a far andare avanti il governo. Salvini si è detto molto soddisfatto perché afferma di aver sentito anche dei sì dall'altro vicepremiere. A questo punto la priorità sembra essere la riduzione delle tasse. Questo mentre il governo pare non avere alcuna intenzione di mettere in cantiere una manovra così come chiesto dall'Europa per ridurre il nostro debito. Ieri il pressing è arrivato anche dal Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha chiesto appunto che l'Italia faccia delle mosse credibili per la riduzione del nostro debito. Inoltre Draghi ha detto che non va assolutamente utilizzato lo strumento dei minibot che o crea nuovo debito o è il nulla. E poi c'è la vicenda della fusione fra FCA e Renault. Bene, il ministro dell'economia francese Lamer dice che la responsabilità dell'ammancato accordo è tutta in capo alla società italo-americana che aveva troppa fretta. Replica invece il CAM che in questo momento non ci sono le condizioni politiche per questa intesa. Insomma, rimbalza sull'EMER la responsabilità del fallimento. Braccio di ferro intanto in Italia per le dimissioni per la sorte dei membri togati del CSM implicati nella vicenda coinvolti nell'inchiesta della Procura di Perugia che ha chiamato in causa fra l'altro l'ex Presidente dell'ANM Palamara. Intanto il Governo attraverso il Ministro della Giustizia Bonafede pensa a una riforma dell'organo di autogoverno della magistratura. Veniamo subito alle prime pagine dei quotidiani. Ecco il Corriere della Sera. Lega e 5 Stelle ci riprovano, quindi intendono rilanciare la loro alleanza. Nuova agenda e sfida l'Europa sulle tasse. Poi c'è un caso a Garavaglia, vedremo il Vice Ministro al Tesoro che è chiamato in causa per una vendita, diciamo, sotto costo di uno stabile della Regione Lombardia. Draghi avverte, serve un piano credibile per il debito e boccia i famosi minibot. Al centro di questa prima pagina, ecco qui, l'intervista al Ministro Lemaire. Serviva più tempo, Ministro dell'Economia francese, FCA non ha voluto aspettare. Questa invece è la Repubblica che parla, a proposito proprio di FCA Renault, di una grande beffa da parte di Parigi. Anche in questo caso c'è un'intervista all'EMER, poi i commenti, eccoli qua. Il silenzio dei perdenti è dall'altra parte, invece, un'analisi dedicata al voto danese di ieri dove hanno vinto i socialdemocratici, socialdemocratici che però sono contrari all'ingresso dei migranti nel Paese. Questa è la stampa. Draghi sprona conte, nessuna scorciatoia per ridurre il debito italiano. In apertura sul quotidiano torinese c'è la vicenda FCA Renault. E poi, al centro della prima, e lo vedremo anche su altri quotidiani, questa vicenda il Papa ha commissariato, diciamo così, l'URD. Lì ci sarebbero troppi affari e poche ormai questioni di fede nei luoghi delle apparizioni mariane. Il messaggero scossa di Draghi è un avviso all'Italia, così il quotidiano romano. E ancora il sole 24 ore che punta tutto sulla bici e tassi fermi ancora a lungo e l'ipotesi del ritorno del quantità di vising, lo vedete. E poi, naturalmente, la vicenda FCA Renault stop di Elkan per proteggere la casa italo-americana. Rammarico, così dice il sole 24 ore, dei francesi. Questo è avvenire. Minibot, maxidebito. Il riferimento è proprio ai minibot dei quali si è parlato con un voto che è stato bipartisan. Poi il PD e più Europa si sono chiamati fuori. Avvenire, titola su questo. Il resto del Carlino. Schiaffo di Macron all'Italia e la vicenda FCA Renault. E poi qui, fuori i mercanti dal tempio, si parla ancora del caso Lourdes, diciamo così. Questo è il giornale. Prendi soldi e scappa. Reddito a chi non lavora. Furto di cittadinanza. Si torna su questo tema. FCA Renault nel commento in apertura del quotidiano milanese. Il fatto, invece, parla ancora di CSM e dintorni. PD in balia di lotti. Lady Palamara, cioè la moglie del PM indagato, lavorava alla Regione Lazio da Zingaretti, attuale segretario del Partito Democratico. Macron buca le gomme all'Europa, dice la verità. È sempre la mancata fusione automobilistica. Questo è il mattino. Scossa di Draghi con avviso all'Italia. E poi, naturalmente, il quotidiano in Napoli si occupa di lavoro e mezzogiorno libero. La classe operaia non va in paradiso. Si affida alla Lega un'analisi del voto. E ancora, l'ultimo titolo che vi mostro è il manifesto. Morsa d'acciaio è la situazione a Taranto. Difficile. Ci vediamo fra qualche istante. Le 7 e 11 minuti in questo istante. Allora, avete visto, ieri il nuovo pressing sull'Italia è arrivato dalla Banca Centrale Europea, da Mario Draghi, che ha chiesto al nostro Paese un piano credibile di rientro dal debito, dal nostro enorme debito pubblico. E poi parole le ha adoperate Draghi, eccolo, durante la conferenza stampa, sui famosi minibot. Che cosa ha detto Draghi? Che si tratta o di moneta illegale, e per questo naturalmente proibita, o di nuovo debito. E quindi questa idea non funziona. E ha promesso che la BCE terrà i tassi fermi al 2020. Ecco, qui sotto, Fubini analizza la richiesta e il suggerimento che arriva da Francoforte. Che cosa dice la Banca Centrale Europea? Riduzione realistica a tappe del nostro debito, cosa che ci consentirebbe di evitare assolutamente la procedura di infrazione da parte dell'Europa. Eccola qua, la vicenda dei minibot, che sono oggetto di discordia, così viene definito dal Corriere. Dubbi e rischi su titoli che non hanno interesse e non hanno scadenza. E sono l'idea che viene sostenuta, ad esempio, da Claudio Borghi, dal Presidente della Commissione Bilancio della Camera, che ne è un grande sostenitore, bocciata dall'Europa, quindi. Veniamo alle due pagine interessanti dedicate dal Corriere alla mancata fusione fra FCA e Renault. Dice Torino, abbiamo solo tutelato quello che era in nostro interesse. Vedete, il gruppo francese è precipitato in borsa, ha perso il 6,4%, mentre FCA più 0,09 è andata abbastanza bene, non ne ha sofferto. In questa pagina anche il racconto dei tentativi di alleanze provati proprio dall'ex gruppo Fiat, dal divorzio con General Motors alle avance di J. Lee, che è una casa cinese. Occasioni mancate. E questa è l'intervista al Ministro francese dell'Economia, Lemaire, che spiega così il fatto che si sia bloccata questa iniziativa. Serviva tempo perché Parigi voleva impegni chiari, mentre, e qui rimbalza sull'Italia, sugli italo-americani, il motivo del fallimento della trattativa, FCA voleva chiudere al più presto. Veniamo invece alla politica. Patto in tre punti, ieri il vertice fra Salvini e Di Maio ha consentito una schiarita nei rapporti fra i due leader. Parte, dice così il Corriere, la sfida all'Europa sulle tasse. Tutto questo, mentre il Presidente del Consiglio, eccolo, era ancora in Vietnam. In questo caso, lo vedete in un'immagine ludica, visita praticamente terminata. Eccolo uno dei temi, dei retroscena, dei temi comunque del dibattito fra i due leader, Di Maio e Salvini. Lunedì si metterà appunto una nuova agenda. Toninelli potrebbe essere avvicendato al Ministero delle Infrastrutture e potrebbe arrivare un erede politico di Savona, del Ministro Savona, ai rapporti con l'Europa. E poi questa è invece la pagina dedicata ai temi della giustizia. L'Ite fra le magistrate e Salvini, quelle che erano state accusate di avere una linea antigovernativa. Si tratta di un linciaggio morale pericoloso, fanno sapere da Firenze. Mentre questa è la vicenda che coinvolge Garavaglia. Ci sarebbe un palazzo nel centro di Milano, palazzo della Regione, venduto sotto costo. Per questo la Corte dei Conti punta il dito contro l'attuale ministro, il leghista vice-ministro all'economia Garavaglia, che all'epoca era esponente dell'Aggiunta regionale Lombarda. Infine, sempre a proposito di giustizia, ecco l'intervista al vicepresidente del CSM, Davide e Davide Ermini. Gli autosospesi siano responsabili. Mentre, eccola qui la domanda centrale di questa intervista, si torna a discutere di riforma del CSM. Dice, dice Ermini, è competenza del Parlamento su cui non mi pronuncio, mi limito a confermare la mia contrarietà all'ipotesi del sorteggio, che è quella che si fa in queste ore, perché sarebbe incostituzionale e per l'irrazionalità nella selezione dei candidati. Insomma, partita apertissima. Repubblica, pagine dedicate subito al caso. Oggi ha qualche problema di il nostro touchscreen. Eccoci qua. Lo ha? Dicevo, il Cannes molla la Renault irragionevole continuare, è il titolo forte del quotidiano romano. E ancora, questa invece è una delle pagine dedicate alla politica. Di Maio, il ministro dello sviluppo economico assediato dalle crisi di numerose aziende italiane. Tema sicuramente di primissimo piano. E questa è la vicenda della giustizia. Bonafede è salito al Quirinale da Mattarella. Vedete l'ipotesi di riforma con sorteggio. Mentre in quest'altra pagina vedete quello che si sta discutendo nel PD. C'è Lotti che viene e che avrebbe partecipato a queste famose cene con Palamara insieme all'altro esponente del PD, Ferri, e Zingaretti che dice a Lotti devi chiarimenti. Mentre questa è la posizione del Partito Democratico sul CSM nuove norme indispensabili a ridurre l'attuale peso delle correnti e quindi indirettamente della politica. Qui invece torna la vicenda di Noa. Lungo digiuno e antidolorifici. L'articolo spiega che da mesi in qualche maniera Noa si era lasciata andare, aveva iniziato a morire. Lo vedete, la giovane olandese mangiava e beveva il meno possibile da marzo. La sua morte risale alla fine di maggio. Eccoci invece alla stampa. Subito qui l'immagine dei due vicepremier. Eccoli qua, duri con l'Unione Europea e poi si blindano contro i premier. Tema è naturalmente i rapporti proprio con Bruxelles. A proposito di Bruxelles, queste sono le osservazioni di Carlo Cottarelli per sfuggire alla scura dei mercati. L'Italia deve evitare gli scontri con l'Europa. Questa la valutazione e l'analisi proprio di Cottarelli. Ancora, ieri anche momenti di critica al governo sono arrivate dal presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Eccolo qui. Il SIA lo sblocca cantieri ieri da un ramo del Parlamento, dalla Camera, in realtà secondo Cantone così come è stato ridisegnato quel provvedimento rischia di favorire la corruzione. Politica internazionale. Le celebrazioni per il D-Day hanno messo vicini Trump e Macron. Eccoli qui, li vedete mentre la pattuglia acrobatica francese disegna nel cielo i colori della bandiera transalpina. Il nostro legame è indistruttibile. quindi dopo tante tensioni un momento di grande vicinanza. Di qua invece mentre c'era questo vertice questa riunione diciamo occidentale i leader del resto del mondo Putin e Xi si ritrovavano a Mosca intesa per una nuova era titola così la stampa. Ecco qui invece quello che scrive il Sole 24 Ore a proposito di BCE qualche elemento lo abbiamo visto cioè il fatto che i tassi di interesse resteranno fermi fino alla metà del prossimo anno quindi un anno da ora e poi l'idea che possa tornare a operare il quantitative easing quindi l'immissione di grandi somme di denaro nei mercati questa invece è sul questa invece è sul mattino e va bene fa tutto lui e ci riproviamo questo è sul mattino il rapporto Alma Laure a sud laurearsi conviene ma è fuga di diplomati mi sa che qualche problema lo abbiamo con il nostro touch vediamo ecco qui l'intervista del giornale a Carlo Nordio ex magistrato molto attento naturalmente alle questioni di giustizia e qui la sua opinione è un po' controcorrente i giudici vicenda appunto Perugia e dintorni stanno provando sulla loro pelle quello che significano processi mediatici e intercettazioni lo dice un giudice stesso io invece passo subito alla linea alle previsioni del tempo guardo sempre la tua cartina Paolo buongiorno Paolo sotto corona oggi una bella Italia piena di sole giusto? buongiorno è facile però da questo punto di vista problemi grossi non ce ne sono insomma c'è c'è ben altro come possa dire però ieri nel pomeriggio alle 8 lo vedremo c'è stata una zona di temporali diciamo nella zona del Veneto nel pomeriggio segno di che quella instabilità che dava qualche isolato temporale al sud si era trasferita al nord oggi non c'è molto né dell'uno né dell'altro perché se andiamo a vedere le piogge previste per la prima parte della giornata di oggi non c'è nulla al sud compare qualcosa verde un millimetro cioè avete questo è un po' l'ordine di grandezza un millimetro di pioggia su alcune zone alpine un po' di nuvole il grigio che possono toccare Sardegna Toscana poi nella seconda parte della giornata quella che tipicamente è un po' più critica in cui è più facile che ci sia qualche fenomeno vediamo la cartina successiva vedete che al sud non c'è niente in zona alpina quella occidentale ci può essere qualche fenomeno appena più significativo perché questo verde appunto che prende anche l'appennino settentrionale è proprio pochissima cosa e quindi per oggi non succede molto domani complessivamente situazione simile le zone alpine hanno deboli precipitazioni un po' sull'appennino settentrionale ma è una giornata in prevalenza stabile cioè fenomeni intensi non ci sono un po' di grigio c'è un po' di grigio è vicino diciamo a ovest a sinistra e questo porta un leggero cambiamento per la giornata di domenica che riguarda però soltanto direi il nord perché vedete al sud non c'è assolutamente nulla su alcune zone del centro forse in Sardegna deboli piogge l'appennino settentrionale sempre molto deboli le alpi centro orientali molto deboli le alpi occidentali c'è il blu e il giallo significa precipitazione di una certa quantità quindi qualche fenomeno un pochino più consistente ci potrebbe essere in prevalenza nel pomeriggio se dovete fare dei programmi tenetene conto ma insomma oltre questo non si va le temperature minime sono scese localmente un poco sulle zone del nord ma siamo comunque nell'ordine di grandezza delle medie non siamo molto molto lontani lo stato dei mari per oggi più tranquilli quelli orientali il celeste sono quasi calmi generalmente mossi i bacini centro occidentali per venti meridionali se volete noi ci vediamo subito prima delle 7 e 55 con qualche foto toscana oggi restiamo in toscana adesso c'è poca pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Edicardo Culotta da più tardi